Gli inquirenti sono convinti di aver dato un nome all'uomo ucciso e sepolto nel giardino di una casa di guanzate, Ernesto Albanese, 33 anni di finomornasco, scomparso dal giugno scorso. I resti, disseppelliti nelle scorse ore, secondo quanto trapelato, sarebbero compatibili dal punto di vista di altezza e corporatura, ma la certezza arriverà solamente dall'esame del DNA. Il corpo è stato trasferito al Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense di Milano. L'esame dovrebbe chiarire, oltre alla causa della morte, anche la data del decesso dell'uomo. Albanese potrebbe essere stato ucciso altrove e poi trasportato a guanzate e sepolto nel giardino della villetta di Via Patrioti. Da tempo l'edificio era in ristrutturazione e il continuo via vai di operai e mezzi nella palazzina potrebbe essere servito ai responsabili dell'occultamento del cadavere a non destare particolari sospetti. Il delitto sarebbe maturato nell'ambiente della malavita organizzata della zona, ma l'indagine è ancora le battute iniziali. Gli inquirenti stanno lavorando su più fronti, a partire dal possibile collegamento tra l'omicidio di guanzate e l'inchiesta su una rapina avvenuta a Binago nel luglio scorso, che aveva portato all'arresto di tre persone, i fratelli Andrea e Filippo Internicola, 46 e 42 anni di Lurago Marinone, e Rodolfo Locatelli, 39enne di guanzate. Al momento non risultano indagati per il delitto né per l'occultamento del cadavere. Tra gli arrestati e il giallo di guanzate però c'è un collegamento. Il terreno di Via Patrioti, nel quale è stato ritrovato il cadavere, era stato acquistato da Internicola e poi ceduto a Locatelli. L'indagine sul delitto di guanzate potrebbe inoltre incrociare quella sulla sparatoria avvenuta il 19 settembre scorso ad Appiano Gentile, un episodio inquietante dai contorni ancora tutti da chiarire, che potrebbe essere collegato però allo stesso ambiente malavitoso nel quale sarebbe maturato l'omicidio del 33enne di Fino Mornasco.